Beh, è il primo di dicembre, dai, mi hanno cambiato mese e adesso ci avviciniamo a grandi passi al Natale e alla finale dei mondiali, sperando che possa essere una bella finale, sperando possa essere un buon Natale, quindi buona giornata a tutti ragazzi, oggi siamo qui per parlare un po' della situazione Juve ma non solo, vorrei anche cercare di andare un pelo oltre, come ieri vi dicevo cercherò di stringere il più possibile perché faccio un po' fatica a rimanere seduto alla sedia, ma ci proviamo perché la chiacchierata quotidiana non me la può togliere nessuno, neanche il Covid. E allora ieri è uscito un comunicato Juve ed è stato brutto perché è uscito nel momento in cui ho pubblicato l'altro video, a saperlo, non avrei pubblicato quell'altro sulle parole di Gravina, anche se secondo me era un contenuto importante che comunque vi lascio qui nelle schede, ma avrei parlato anche un po' del comunicato Juve. Il comunicato Juve è che mi è piaciuto, perché ovviamente tanti non lo leggeranno neanche, perché figuratevi se dobbiamo andare a leggere un comunicato della Juventus, cioè che siamo impazziti, certo che no, però la Juventus va un po' a rispondere anche a quella che era stata la polemica e la critica pubblica di persone che continuano a dire se si sono dimessi è perché ammettono di essere colpevoli. No, Juventus è proprio lì che ti sta dicendo noi siamo convinti di aver seguito i protocolli e le regole. Il protocollo è chiaro, si diceva una volta, eppure anche col protocollo chiaro le cose non erano andate dal punto di vista sportivo come dovevano andare. La Juventus è convinta di aver seguito le regole, è convinta di aver seguito i regolamenti ed è pronta, concludeva proprio così, il comunicato ufficiale, la nota ufficiale, in mezzo a tanti tecnicismi vari che vanno per forza di cose a ripercuotersi sulle figure che stanno entrando in dirigenza, per dire il presidente non è ancora entrato ufficialmente all'interno del CDA, entrerà il 18 di gennaio quando ci sarà appunto l'elezione, però tutte queste figure vanno in quella direzione di difesa, ma la Juventus conclude il comunicato nel miglior dei modi, cioè Juventus cercherà di tutelarsi e difendersi in ogni sede per far valere i propri interessi sportivi, quindi anche un po' tutta questa roba che sta uscendo da parte di vari giornalisti, varie testate giornalistiche, beh, io me la segno, me le sto segnando tutte, mi sto segnando tutti i nomi di questi presunti professionisti che stanno cercando di spalare merda sulla Juventus, che scrivono pezzi, che scrivono articoli, non tanto per far apparire ma per altro, e stanno girando anche alcune nuove intercettazioni, spacciate per nuove intercettazioni, perché tanti le spacciano per nuove intercettazioni, che nuove non sono, ve lo dicevo ieri, è stata attivata la macchina del fango, quindi la Juventus si andrà a tutelare anche nei confronti di queste persone, sono dell'idea che la Juventus abbia cercato un attimino un cambio di direzione rispetto agli ultimi anni, in cui si faceva scivolare addosso tante cose, tante volte l'abbiamo detto queste cose, non ci vanno bene, Juventus in questo momento invece probabilmente sta preparando la controffensiva, difese contropiede, alla vecchia maniera, e dato che tanti davvero stanno spalando merda sulla Juve, senza sottolineare alcune cose, beh, vi faccio leggere per dire questo tweet di Nico Schira, mi sposto un attimo, perché ovviamente Schira che cosa fa? Onestà intellettuale dice che Rubini è da leggere prima l'ultimo, poi il primo, che Rubini intercettato lo scorso 22 luglio sulle plus valenza Juventus, quindi 22 luglio, quindi intercettazione vecchia, che tanti giornali e tanti giornalisti stanno facendo passare per nuove, e ovviamente pesanti, perché queste intercettazioni, eh, queste intercettazioni dicono un sacco di cose scomode, io l'ho detto a Fabio Paratici, è una modalità lecita, ma è spinto troppo, e lui mi rispondeva, non ci importa nulla, perché negli scambi se metti 4, 10 è uguale, nessuno ti può dire nulla, ed è vero, e c'è scritto qui, è lecito, è lecito, e nessuno ti può dire nulla, ad oggi non esiste un regolamento, c'è stato anche un processo con Inter e Milan anni fa, e si è concluso tutto in un nulla di fatto, se è il discorso plus valenze, che non è il discorso plus valenze, come abbiamo già detto tante volte, cioè, fate un passo indietro da questa roba qui, perché se va ad aprirsi, scusate, il vaso di Pandora sul discorso plus valenze, e si decide di iniziare a punire le società per il discorso plus valenze, salta per aere, non dico la serie calcio mondiale, salta per aere al calcio mondiale, che non è questo il ragionamento dei Vintus, è la battaglia della Juve, non è questo, però, nel dubbio, perché non buttare in mezzo agli articoli della quotidianità alcune intercettazioni vecchie, è che non c'entrano niente, per far vedere che, sì ma la Juve è intercettata, hanno detto delle cose scomode, loro erano in disaccordo tra di loro, una follia, una follia, sempre che Rubini intercettato su Paratici con Fabio non si poteva ragionare, finché c'è stato Marotta gli metteva un freno, si poteva svegliare la mattina e firmare 20 milioni, senza che nessuno gli dicesse niente, glielo ho detto più volte, stiamo esagerando, e anche questa è scomoda, anche questa è molto scomoda, e da questo capisco che alla fine Fabio Paratici è stato allontanato dalla Juventus, perché aveva iniziato un percorso differente da quello che l'aveva reso uno dei migliori dirigenti insieme a Marotta del panorama calcistico italiano. Questa è un'intercettazione molto pesante, in effetti, che va a creare un danno alla Juventus, questa è un'intercettazione pesante, perché tutte queste intercettazioni che stanno venendo fuori, ce ne fosse una, ce ne fosse una intanto nuova, inedita, e ce ne fosse una che tira fuori qualcosa di davvero importante, adesso sta girando quella di calciopoli, noi ci siamo creati una nuova calciopoli, ok, quella lì invece è importante, quella lì è importante, quella lì ha un peso specifico che, cazzo, sono prove, quella lì è una prova, quindi sta macchina del fango su intercettazioni, ragazzi, veramente la trovo ridicola, ridicola, e ci sono troppi giornalisti che, pur di fare l'articolino, il titolino, prendersi quella parte di pubblico, che cazzo non gliene frega niente di sapere che cosa sta succedendo, vuole leggersi la merda, e allora non gli idea la merda più merda, che è venuta fuori nei mesi precedenti, che nulla a che vedere con quello che sta accadendo, anche perché non so se avete letto il comunicato della Juve, ribadisco, Consob dice una roba, Procura di Torino ne dice un'altra, non si parla il falso in bilancio, quindi veramente è uno spettacolo, è uno spettacolo incredibile, io vorrei prendere i popcorn e mettermi qua ad aspettare, vedere cosa succede, perché sento solo, sento mille chiacchiere, sento solo gente che parla, troppe chiacchiere, troppe chiacchierate, troppe ciaccarate, come si dice qua in dialetto da me, troppe persone che sono già convinte, troppe persone che stanno già festeggiando la Juventus in Serie B, la Juventus penalizzata, tritoli tolti, vedo già troppi che festeggiano, troppi che festeggiano, poi temo che ribarranno dei lusi, mi spiacerà per loro. Del Piero vicepresidente, conferme su una figura simile a Nedved nel ruolo di vicepresidente, secondo Gazzetta Del Piero è stato già contattato dal nuovo presidente Ferrero, e Del Piero starebbe ragionando e cercando di capire anche un po' la fattibilità del tutto, per capire se avrà anche voce in capitolo all'interno delle decisioni, non sarà soltanto un uomo di facciata, quindi Del Piero sta prendendo in esame questa cosa, ci sta ragionando, non ho idea delle tempistiche ovviamente, ma non credo che si possa andare oltre appunto inizio di gennaio, perché poi se il 18 gennaio verrà annunciato un nuovo CDA, sarà necessario inserire anche quella figura specifica. E permettetemi la chiusura parlando un attimo di calcio, perché a volte si dimentica, ma questo canale nasce per parlare di sport, e di pallone, nasce per parlare di calcio, e ieri sera si è giocata l'ultima partita del girone di Argentina e Polonia, mi sono guardato appunto Argentina-Polonia, Polonia-Argentina è stata una partita che mi ha provocato un'ansia terrificante, perché io sì, tifo per la finale Messi contro Ronaldo, ma ieri sera ho esultato tantissimo al rigore sbagliato da Messi, ma più che sbagliato da Messi dobbiamo dire parato da Szczesny, che ha il secondo rigore parato all'interno di questo mondiale, soltanto un altro giocatore c'era riuscito, un altro portiere degli Stati Uniti una ventina anni fa, era riuscito nell'impresa, Szczesny va avanti quindi la possibilità di stabilire un record, e mi ha esaltato perché è un rigore che, insomma, rigoraccio, proprio che non devi mai dare. Poi ha calmato un po' tutti, sotto la curva dei tifosi argentini, fatto anche un gesto come per dire, sì dai ragazzi, adesso non ha mica ancora segnato, fatto una parata clamorosa su Messi, secondo rigore che sbaglia Messi ai mondiali su tre calciati, questa cosa ho letto anche ieri sera ed è clamorosa come statistica, pensando a uno come Lionel Messi, quindi tre rigori tirati e due sbagliati ai mondiali di calcio per Messi nella sua storia, ma soprattutto ieri sera la Polonia passa in maniera incredibile agli ottavi di finale, per via di un regolamento che prevede punti e poi eventualmente differenza reti e poi i gol segnati, e se tutto è pari, come in questo caso insieme al Messico, si va direttamente addirittura al numero di cartellini gialli, e la Polonia ne ha presi 5, il Messico 7, il Messico va a casa e passa la Polonia, ma la Polonia passa per un motivo, anzi no, perché poi hanno preso un gol in effetti, fino all'ultimo secondo della partita la Polonia era così, poi hanno preso un gol dall'Arabia Saudita all'ultimo istante, ma la cosa importante da sottolineare, che comunque non cambia il discorso, è che la Polonia va agli ottavi di finale per un motivo, per Szczesny, perché Szczesny oltre al rigore parato ha fatto altre mille mila parate, l'Argentina ieri sera poteva farne 5-6 tranquillamente, è stato Szczesny contro l'Argentina, perché il città della Polonia, non so che piano avesse scogitato, è riuscito, è riuscito, perché alla fine è passato, ma diavolo si è rischiato, cioè questo deve dare un bel bacio in fronte a Wojciech, che gli ha salvato il sedere, e veramente mi ha trasmesso un senso, mi sembrava un rigore parato davvero da Szczesny, un giocatore avversario, mi sembrava che Szczesny fosse effettivamente il portiere della Juventus, dall'altra parte ci fosse messi per il PSG, veramente è un gesto tecnico incredibile, che va a confermare questo stato di forma spettacolare, del nostro portierone, e quindi sono contento, di questa cosa sono contento, almeno una cosa positiva in questo periodo, un po' così, concedetemela, no, di cose positive ce ne sono due in realtà.